Oggi ho presentato il progetto di Villa Strozzi a Palidano di Gonzaga, si tratta di un intervento di restauro relativo a una villa di impianto seicentesco con stucchi anche risalenti all'epoca del Settecento. Il progetto di restauro e miglioramento sismico è stato condotto con metodologia BIM utilizzando sia aspetti di modellazione geometrica sia modellazione tramite mesh a partire da nuvola di punti per poi inserire materiali e contenuti informativi relativi al degrado e agli interventi da realizzare e ottenere poi elaborati grafici automatici o semiautomatici dal modello BIM che ci è stato utile anche per la comprensione più efficace dell'edificio dal punto di vista strutturale, storico e culturale. Vorrei dire nel senso che il modello BIM è diventato anche un collettore di informazioni sia di tipo fotografico che documentale o indagini eseguite sulle murature e gli intonaci in modo da costituire un portale di accesso a un archivio documentale utile per la comprensione del bene.